Cosa succederà nelle puntate del Paradiso delle Signore dal 2 al 6 gennaio 2022? Scopriamolo assieme. Dopo l'affare fatto con la Contessa, Marcello ha in mente grandi progetti per Palazzo Andreani. Al contempo, Umberto si tormenta per aver perso l'affare. Inoltre, quando Ludovica riceve un regalo da Marcello e ne è felice, Torre Bruna inizia a temere un possibile riavvicinamento, soprattutto vista l'arrampicata sociale che sta facendo il giovane Barbieri. Intanto, Umberto inizia a sospettare che ci sia Adelaide dietro l'acquisto di Palazzo Andreani. Successivamente, Ferdinando apprende da Fiorenza qualche dettaglio in più su Barbieri e i suoi affari. Quando Umberto ha la conferma che dietro la William vale a dire la società che ha acquisito Palazzo Andreani si nascondono la Contessa e Marcello, inizia ad architettare un piano. Suo alleato in questo è Torre Bruna. Il loro obiettivo è mandare a monte i progetti di Adelaide e Barbieri. Nonostante abbia fatto di tutto per allontanare il ragazzo, quando Alfredo assume un atteggiamento distaccato nei confronti di Irene, quest'ultima, anche se tenta di mascherarlo, comincia a risentirne. E quando scopre che Clara ha retto il gioco ad Alfredo ci rimane malissimo e non vorrà riappacificarsi in alcun modo con la sua collega. Intanto, al paradiso arriva un piccolo monello che porta un po' di vivacità e brio. Il suo nome è Adelmo. Il bambino, insieme agli altri nella sua condizione, vive in orfanotrofio. Al momento è sotto la custodia della parrocchia di Don Saverio. Matilde confessa a Vittorio di aver passato il capodanno con Tancredi, Flavio Parenti. Conti in cassa, facendo buon viso a cattivo gioco. Nel frattempo, Tancredi sorprende Matilde con un regalo. Adelaide sprona Matilde a considerare almeno l'ipotesi che Tancredi sia cambiato davvero. Tuttavia, la Frigerio non si fida. Ritiene che il comportamento attento e conciliante del coniuge non sia altro che una strategia per convincerla a ritornare a Torino. Al tempo stesso, Tancredi, notando la complicità tra Matilde e Vittorio, tenta di fare alla moglie una corte ancora più spietata. Nel frattempo, il piccolo Adelmo ispira Vittorio e Roberto, che parlano a Gloria. Hanno in mente una nuova iniziativa a scopo benefico del Paradiso. In questo caso chi ne beneficia sono proprio gli orfanelli, in occasione della Festa della Befana. Questa iniziativa coinvolgerà anche la caffetteria. Per la Festa della Befana e per questa buona azione, Elvira si offre di dare una mano a Salvatore e preparare i dolci per gli orfanelli è un compito non da poco. Pertanto la Venere chiederà aiuto ad Irene, Clara e Maria. Nel frattempo Vittorio organizza al piccolo Adelmo la sorpresa per la Festa della Befana. Ciò lo porterà a confessare a Roberto che gli costa assai tenere le distanze da Matilde. Non solo, l'incontro del piccolo Adelmo li lega ancora di più. Non sanno che stanno rischiando tantissimo. Infatti, Tancredi ha messo sulle loro tracce un investigatore privato. La magica atmosfera dell'Epifania fa riavvicinare anche Irene e Alfredo, che per un istante tornano bambini. Pertanto, Irene perdonerà Clara e Alfredo sarà convinto di avere un'opportunità per conquistare la Cipriani. Nel frattempo, il commendatore viene aggiornato da Tancredi sull'investigatore privato. Presto il di Santerasmo saprà cosa gli nasconde Matilde. Per Vittorio le cose si mettono a dir poco male. A questo punto Tancredi non accetta più che Adelaide non prenda posizione e vuole sapere se la contessa è dalla sua parte o di quella di Matilde. Intanto Ezio nutre un timore. Ha paura che, nel caso in cui non dovesse riuscire ad avviare subito l'attività, la sua famiglia entrerà in un vortice di problemi economici, ma sia Veronica che Gemma si dichiarano pronte a collaborare. Vito torna a Milano dalla Sicilia. Coglie al volo un'occasione per chiarirsi con Maria. Intanto, Tancredi prende una decisione che impatta notevolmente sul suo futuro, portandolo a trascorrere gran parte del suo tempo proprio a Milano. Di cosa si tratta? Per non perdere le prossime anticipazioni, iscriviti al canale.